Se racconto quello che mi fa, mi ammazza. Mia figlia grande ha visto tutto e ne è uscita devastata. Tutto il giorno chiusi in casa, sono diventata il suo unico bersaglio. Solo insieme le donne trovano il coraggio di raccontare le loro storie. Solo insieme possiamo far sparire la violenza. Sostieni WeWord, Donald 45590, mai più invisibili. Grazie a tutti.